Iniziamo con un brano di Atmosfera dal sax di Fiorezzo Tassinari, un brano del 96, 95-96, nel 1995-96 circa, non ci ricordiamo bene. Tra l'altro c'è anche un video molto bello, il brano si intitola Sottovoce, è una beginne molto romantica con il suo sax Sottovoce. Sottovoce Andano Maggio Dolce Andano Maggio Dolce Andano Maggio Dolce Sotto oggi Sotto oggi Sotto oggi Sotto oggi Sotto oggi Sotto oggi